Sì, come state? Spero tutto bene. Allora, oggi iniziamo, siamo a pagina 83, con le preposizioni di luogo e i possessivi. Iniziamo dai possessivi, no? Noi abbiamo studiato i possessivi, che sono mio, mia, tuo, tua, suo, sua, nostro, nostra, vostro, vostra, loro, loro, quando riguarda il singolare del maschile o il singolare femminile, altrimenti il plurale maschile è miei, quello femminile miei, tuoi, tue, suoi, sue, nostri, nostre, vostri, vostre, loro, loro. E fino a qui tutto chiaro, no? Poi noi sappiamo che dobbiamo quasi sempre usare l'articolo, con però alcune eccezioni. Ad esempio, quando io parlo di familiare, se io parlo di mia sorella, ad esempio, no? È un mio familiare, mia irmana. Come in spagnolo, non uso l'articolo, quindi io non dico lei è la mia sorella, ma dico lei è mia sorella. Se invece io parlo di due sorelle, quindi dos hermanas, io in questo caso uso l'articolo e quindi dico loro sono le mie sorelle. Se invece parlo di penne, e spero, questa è la mia penna, queste sono le mie penne. Quindi con i nomi, con la famiglia, i familiari, quando parliamo di un familiare, non uso mai l'articolo determinativo. Questo poi l'avevamo già studiato. Ora guardiamo le preposizioni di luogo. Allora, dentro a, quindi adentro, fuori da, affuera, sopra, arriva, sotto, pronto, inf dentro. Allora, quindi vado po quindi queste sono le stesse proposizioni che abbiamo in spagnolo con una particolarità quando io parlo di preposizioni che hanno la A quindi dentro A, sopra A, sotto A, davanti A, dietro A, accanto A, di fronte A e vicino A io ho due opzioni la prima, in questo caso mi riferisco all'oggetto che è il cubo quindi, che succede? che io dico, ad esempio, la palla è dentro al cubo e se vi ricordate, questo AL è A più l'articolo IL se io mi riferivo la tavola, dicevo la palla è dietro alla tavola cioè A più la oppure io posso decidere di non mettere la A ma devo sempre mettere l'articolo determinativo quindi io posso dire la palla è dietro il cubo la palla è dietro la tavola però, se io mi riferisco alle persone, come Giulia secondo voi uso o non uso l'articolo determinativo? non lo uso perché ha un nome di persona quindi io posso dire la palla è dietro A, Giulia ok? allora, poi vi darò qualche esercizio da fare che verrà qualificato e vi scriverò tutto su Edukai voi per adesso riguardate la pagina 83 spero sia tutto chiaro se non è chiaro, mi scrivete in Whatsapp ciao ragazzi ciao ciao Grazie.